Volevo appunto avere un incontro con voi per rilustrarvi una importante operazione che è stata svolta dalla squadra mobile, in particolare dal gruppo Falchi, proprio nell'ambito del contrasto delle ferme d'oggettura delittuose, in particolare loro commesse con gli soldi infatti in questo contesto, soprattutto nell'attività da strada, che viene svolto dal gruppo Falchi un gruppo specializzato proprio nell'acquisizione di attività, di notizie e sequestriche che provengono proprio dalla strada, dal rapporto poi che si viene a creare anche con la città di Nazza abbiamo acquisito degli elementi info-investigativi che nella casa di un soggetto potevano avere la disponibilità di armi. A seguito di questa notizia, il 1 ottobre, la sera, siamo andati e abbiamo fatto una perquisizione, un controllo. Grazie proprio anche all'intuito investigativo abbiamo visto che nella casa del soggetto, dove non c'era un elemento particolare, però abbiamo trovato sia un mangime per cani, di più mangime, un cibo per cani e soprattutto anche abbiamo trovato delle chiavi. Siamo riusciti quindi a risalire, perché la perquisizione è stata fatta nel quartiere San Paolo, a un box nella disponibilità del soggetto. Il soggetto è stato fatto per gli anni del 58, c'è un vecchio precedente, c'è un vecchio precedente dei 25 anni fa per un omicidio tipo passionale. Grazie. Grazie.